Olè, 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 olè Signori miei, Asphaltation il Genoa Asphaltation, asfaltato completamente Nel peggiore dei modi, nella peggio maniera non si poteva asfaltare questo Genoa ragazzi Non si poteva fare di meglio Allora, aspettate, cioè in realtà si poteva fare di meglio, ma È stato letteralmente asfaltato da Napoli Allora, 6-0, poco da dire di tutti, nessuno può parlare, penso Un Napoli comunque veramente di cui non si ci può lamentare, non ha preso gol Non ha regalato niente, non ha rubato niente assolutamente Ne ha solamente rifidati 6 al Genoa Allora, il primo tempo, lo faccio sempre io, è stato ragazzi un po' di sofferenza Perché comunque ragazzi il Genoa era motivato all'inizio Ma è impressionante come questo Genoa, signorimi Intanto vi posso la camera perché poi come al solito vi lamentate con me Che non sto mai fermo con la video fondata Mi chiamano in mano e non c'ho dove metterla Un bel guaio Comunque, qua Comunque dicevo Dicevo, il primo tempo ragazzi è stato veramente un Genoa che ha provato veramente a attaccare Ha giocato bene, ha avuto dei momenti, un'occasione clamorosa con le rager Perché veramente si ci voleva mettere le mani nei capelli per quell'occasione Ma il Napoli ragazzi l'aveva già sbloccata al decimo minuto con Lozano Ragazzi, Lozano Che partita ha fatto Lozano? È un giocatore completamente diverso dall'Ozano che abbiamo visto nelle prime partite dell'anno scorso Inserimenti, tagli, scambi, triangolazioni Veramente è un giocatore che secondo me è maturato Cioè è veramente un giocatore che secondo me ha cambiato testa Perché l'anno scorso, come ha detto Gattuso, era arrivato a Napoli senza neanche sapere dove si trovasse Ora invece è concreto, ha cognizione di causa Gattuso gli dice di passare la palla, lui passa la palla Tagli in profondità Oggi ha fatto due gol che sono capolavori alla Cagliecon Ha fatto il nuovo Cagliecon, Lozano, signori Con il numero 11 e con un po' di velocità in più, se mi permettete Primo gol che è veramente cross da scavalcare di Mertens Ossiman, Ossiman è importante anche in quel gol perché ha portato via Duomo E Lozano la infila Con un taglio proprio tipico di Cagliecon Poi invece il secondo gol di Lozano Io mi soffermo molto su Lozano perché a me è un giocatore che mi piace Mi piace come caratteristiche Il secondo gol è un errore clamoroso del Genoa che ha regalato palla a Mertens Mertens l'ha data a Ossiman che ha bruciato tutti e ha segnato col gol sul primo palo Però dobbiamo sottolineare ragazzi il gol più bello di oggi Il gol più bello di oggi che è il secondo gol di Zielinski Di questi sei, sì, bellissimo il 6-0 di Politano nell'angolino Bellissimo il 5-0 di Elmas che dribbla l'uomo e poi la butta dentro Bello pure il 3-0 che l'ha fatto Mertens, però gli hanno regalato praticamente palla Quindi davvero bello, bello anche il 4-0 di Lozano come ho già detto Ma il secondo gol è spettacolare L'azione con Zielinski che dà la palla a Elmas sulla fascia Zielinski si fa tutto il centro campo Dà la palla a Elmas sulla fascia Elmas, cross e mezzo, tacco di Ossiman che fa pure assist E gol di Zielinski che prima di tirare fa la finta di tiro e poi conclude chirurgicamente Cioè è un gol da Cineteca ragazzi, è un gol di Cineteca 6 pere, 6 pere al Genoa asfaltati, proprio col rullino asfaltati E niente, si arriva al match con la Juve con 6 punti all'attivo 8 gol totali, 8 gol totali vuol dire che il Napoli ha una media di 4 gol a partita Finora, direi modesta, modesta E niente, si sfiora la rissa poi nel finale di partita Perché Ossiman e Kulibaly sono stati parecchio provocati dai gioielli del Genoa Che sicuramente erano un po' stizziti per i risultati Quindi si sono volati un po' di gialli Si è sfiorata veramente la rissa Che poi non ha senso, non ha senso Ma questo, per dispiace che non ha segnato il grande Victor Però ha fatto una signora partita Ha avuto due occasioni di testa Ha avuto un'occasione da tiro fuori da di rigore Ha raggiunto tutti i palloni Usato la sua velocità, il suo fisico Fatto delle buone sponde Non ha un grande passaggio, devo essere sincero Cioè proprio quando va a passare la palla è floscio Però deve migliorare perché è giovane Noi comunque ci vediamo un prossimo video C'è poco a dire oggi perché abbiamo asfaltato il Genoa Ma i sei punti a un certo punto segnavano Segnavano gol come se fossero Che volavano i gol, volavano Ciao, ci vediamo alla prossima Ciao, ci vediamo alla prossima